Ciao a tutti, al contrario di quello che ho detto nell'ultimo video, eccomi qua a fare un'altra opening e stavolta di ben 17 booster. Queste due le ho già aperte a Pandora e ve le faccio vedere. E poi procederò all'effettivo opening delle rimanenti 15. Allora, sono già in ordine. Shinx, Pansage, Grimer, Staryu, Litwick, Luxio, Cricatum, Energia Prisma, Reverse Panser e Raro Weavile. L'altra invece... Munna, Cricatot, Pampur, Elgian, Litwick, Centro Pokémon, Vanillish, Spighetto, Reverse Level Board e la rara è Articuno. Rara Orografica. Ok, adesso procediamo con le altre 15. No, le lascio qua sullo sfondo, dai. Cominciamo... Ah, le ho messe in ordine per disegno, partendo da Regigigas e... Ah, che mi sfugge il nome! Mewtwo, Zekrom e Reshiram. Perché di Reshiram ne ho avute solo tre. Queste due e questa ultima qua in fondo, che lascio per ultima. Allora, vai, cominciamo che sono ben 15 bustino da aprire. No, di quale buste? Rara? Cioè, no, è online, scusate. Rara, Reverse, si vedono, sì. Allora, Blitzel, Pidove, Fungus, Minfo, Snizzle, Energia Prisma, Cricketune, Frillish, Reverse, Arcanine, un altro. E l'ora? Zapdos! No. Vediamo se becco anche molte a sto punto. Rara, Reverse, Hippopotas, Ferrosseed, Blitzel, Pidove, Fungus, Cricketune, Mincino, Jiggle Puff. Reverse, Chandelure, Rara, Zekrom. Fantastico. No, beh, mi mancava quel disegno, dai, è nuovo. Almeno adesso ho due Reshiram e due Zek. Dai. Online. Seedot, Pikachu, Darumaka, Pampur, Elgin, Emolga, Hippodon, Lapras, La Reverse, Centro Pokémon, La Rara, Muck. Un attimo che mi organizzo meglio qua. Ok. Continuiamo. Stavolta mi sa che il video sarà un po' più lungo, anche se sto cercando di andare il più veloce possibile. Tanto alla fin fine cosa ci interessa ormai? Solo le rare, perché di quelle comuni cavolo ho quasi tutto e di alcune ne è un casino. A riferro, si, ne avrà una decina ormai. Allora. Rara, Reverse, Mianfu, Shinx, Pidov, Litwick, Growlit, Hippodon, Condividi Esperienza, Luxion. Reverse, Darmanitan, un altro. Rara, Amungus. Ultimo pacchetto dei Regi Gigas. E dai. Non fanno più le buste come una volta. Rara, Reverse, Stario, Mianfu, Cricketat, Knizzle, Camchu, Lampend, Lapras, Baskolin. Reverse, Ponte Freccialluccia, Rara, Shiftry. Ma mi mancano i Seedot! Beh, almeno adesso ho Shiftry. Ok, cominciamo con Mewtwo. Chissà che uno dei primissimi leggendari mi porti fortuna. Allora. Comincio a fare un po' di spazzatura qua. Allora, 3, 2, 1. Rara. Reverse. Sono sbagliato. Darumà, Cariolo, Stario, Seedot. Oh, il primo Seedot. Hippopotas, Scusate. Flavable. Condivide esperienza. Ponte Freccialluccia. Reverse. Stario. Rara. Oh. Mio. Dio. No. No. Adesso sto col video 8 ore così carico un video da 8 ore di lui. Non ci credo. Non ci credo. Che botta di culo, dai, cazzo. Mica è figata. Ok, adesso mi faccio la foto gigantografia da appendere sul muro e poi la vendo, cazzo. 50 euro di carta la vendo, non è che me la tengo. No, cazzo, la lascio qua, porca troia. Qua la lascio. Là. Che magari mi porti fortuna. No, non la vendo, me la tengo. Me la tengo. Cazzo, però, la incorniccia. Mica, che culo. Questo video adesso rallenterà di molto perché ogni carta guarderò quella. Allora. 1, 2, 3. Rara, reverse. Bampur, Sidot, Riolo, Shift, eh, ciao, ciao. Eh, visto, visto cosa vuol dire trovare una X, i re-ex full art, ormai. Shinx, Hippopotas, Starmie, Krikatun. Oh, energiato più in coloro, anche questo è buono, dai. Ma io mi accontento anche di poco, comunque. Reverse, Pidovo. Larara, Ciccino, olografico, buono. Buono, buono perché c'è in italiano, buono perché è olografico. Come Pokémon, comodo, perché ha potere Pokémon, che comodo. Lo cambio con quello che ho già. Di là. Online. Non ne posso più delle carte online. Adesso mi hanno anche tolto il gioco. Allora. Shinx, Grime, Pansage, Meo, Growlit, Kirlia, Jigglypuff. Mian, Mian Shao. Devo farmi più spazio qua, ho già finito lo spazio. Allora. Reverse, Persian. Rara. Zebstrika. Mi restano ancora... Sette. Altre due di Miatu. Quattro di Zekrom e una di Resh. E dai! Non sopporto più queste buste. Una volta erano tanto più semplici, una volta non si spaccavano mai. Eh, cosa di una volta. Allora. Pikachu. Darumaka. Vampour. Elgem. Crickethot. Jigglypuff. Vanillish. Ponte Freccialluce. Cavolo di Ponte Freccialluce. Quanti ne ho trovati? Reverse. Lampent. Rara. Darmanitan. Prima mi mancavano i Darmanitan. Adesso ne ho anche troppi. Eh no, 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 no. Dai, non lo posso più vedere sto qua io. No, di qua le buste. Online. Uno, due, tre. Rara. Reverse. Un altro. Ferrosid. Rals. Darumaka. Mienfu. Growlit. Scraghi. Arcanine. Spighetto. Reverse. Mienfu. Rara. Pinsir. Cominciamo con quelle di Zekron. Ma basta, mi sono stufato. Le spacco e basta le buste. Tre, due. Rara. Reverse. Non so quanto si rifletta su questi comunque. Non so se vedete già in anteprima le carte. Beh, io di sicuro non lo sto guardando perché devo vedere cosa faccio. Allora. Meo. Blitzel. Fungus. Vanillite. Shinx. Arcanine. Mien Shao. Scraghi. Uh-huh. Reverse. Hippodon. Rara. Darmanitan. Un altro. Uno reverse e due normali. Allora. E dai! Ma quanto sono? Quasi dieci minuti di video. Dai. Comunque sotto quattro ore ce la faccio restare. Tre, due. Krikatot. Ralts. Meo. Blitzel. Vansage. Luxio. Energia dopo in colore. Mincino. Energia dopo in colore sono sempre comodo. Sempre. Reverse. Simisair. Rara. Berdick. Ah, è che ci siamo quasi. Ma io sono già contento comunque. Sono già soddisfatto. Se trovassi il culo magari di avere un coso. Ah, è giusto. Non è che calcolato. Perché c'è... Ho passato un coso. Come si chiama? Una... La lampada. Come si chiama? Chandelure. No, non è reverse, vero? No, no. Ventilino. No, perché ci sono... No, è reverse. Perché ci sono anche gli shiny. E non sono neanche pensato di guardare se erano shiny. Ma non dovrebbero. L'unico che mi ricordo è cosa? È... Ah, no. Rara. Reverse. Gardevoir. Growlite. Bronzer. Fungus. Pidove. Litwick. Lampent. Raichu. E energia dopo in colore. Beh dai, almeno l'energia dopo in colore salta fuori. Dai. Quello mi servono. Da favore mi mazzi. Reverse. Luxio. Rara. Yeah. Reddigal CX. Doppio! Ok. Questa... Questa cazzo la vendo. Questa o la scambio la vendo, cazzo. Ho controllato sul sito Car Game, questa qua. Quella normale, non full art. Costa 27,80€. Quella o la scambio la vendo. Minchia! Che belle cartine che sono salta da Ford. Beh, io mi accontento anche per qualcos'altro che ho trovato comunque nella busta. Mi accontento anche dell'energia dopo in colore. Che di quelle ne ho poche. E ho tre mazzi. Quindi mi serve un'energia dopo in colore. Allora, Rara. Reverse. Ah, eh. Litwig. LGM. Pampur. Seedot. Cabcho. Starmy. Pesobol. Centro Pokémon. Reverse. Shinx. Rara. Simi Sage. Dai, l'ultima. E niente, sotto i dieci minuti non ce l'ho fatta. Beh, anche perché ho perso un casino di tempo per sto splendore di carta. La metterai in un mazzo solo per soddisfazione. Allora, l'ultima Rara e l'ultima Reverse. Shinx. Cricketot. Riolo. Starryu. Pikachu. Lapras. Pesobol. Mian Shao. Non so più dove neanche metterla. L'ultima Reverse. Mian Shao. Dai, cazzo. Due Mian Shao nella stessa busta. L'ultima Rara. Simi Pur. E vabbè. Però. Non mi aspettavo. No, vabbè. Sinceramente. Un po' ci speravo perché tutti che parlano di Stomotui X, Mewtwo che compare pochissime volte nelle carte. E l'ho beccato full art. Minchia. 50 euro di carta e 49,90? Sempre sul sito. Cosa fa? Sfera X? Infligge 20 danni per ogni energia su di lui e sul Pokémon difensore. Quindi minimo minimo fa 40. E Psicomotore fa 120. Però scarto una carta energia. Ah, poco. Poco male. Buono. E vabbè. Regi Gigas, se avete visto i video precedenti, l'ho già trovato. Nelle carte, nelle buste che mi ha dato per il torneo pre-release di domenica scorsa. Quindi, peraltro, sono contento di averne trovato un'altra, dopo tutto. Insomma. Quattro carte di X, due delle quali Regi Gigas e una delle quali Full Art. L'altra di X che ho è Cura. Beh, beh, beh. Direi che non posso lamentarmi. Perché avendo preso buste più o meno a caso, insomma... Perché so che prendendo i box interi è più facile trovarli. Però, insomma, appunto, prendendoli così a caso, dai. Ho trovato uno Zekrom che dopo tutto non mi dispiace. Ho trovato Zapdos, Erdic, Uno. Poi mi dispiace per Moltres. Così ce li avevo tutti e tre. Sono tutti e due comunque a orari orografici. Questa qua, questa qua. Poi, beh, sì, le energie dopo in colore fanno sempre comodo. Quello è sicuro. Quindi, poi, qualche evoluzione, qualche Pokémon base, sì. Adesso avrò un bel po' di tempo per rifarmi i mazzi. Ho tutte queste carte che ho. Cioè, adesso... A parte il casino che c'è... Cioè, queste vabbè sono le carte che ho già. Però, vediamo, vediamo, vediamo. Queste sono tutte le carte che ho trovato adesso. Tutte queste. Da qua. Tutte queste. Quelle sono le online che ho trovato adesso. Quelle sono quelle che avevo già. Quella è la pila di cartacea che ho appena fatto. Dai, volevo riempire gli ultimi secondi in modo da fare un video di 15 minuti. Ci sto quasi per riuscendo. Ultimi secondi. Ci vediamo al prossimo video che... Non so quando sarà perché a sto punto ho finito i soldi. Ciao! Ciao!